Come state? Un saluto a tutti ben ritrovati, un abbraccio, una buona giornata di nuovo da Milanello, oggi in tenuta un po' così sportiva. Mi raccomando, commentate numerosi qui sotto con il vostro punto di vista, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, come dico sempre, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano. Siamo quasi in 98 Milan, mi raccomando, magari potresti essere tu il numero 98 Milan, se amate al Milan in questi colori e sperate possa essere l'anno della nostra seconda stella, mi raccomando, iscrivetevi da questa parte, chi non si iscrive ti fa i Materazzi, Bonoli, Cimentana e gli interisti, i Ciananoglu, ecco. Mi raccomando, commentate, vi ricordo anche di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball, vi metto il link qui sotto nella descrizione, notizie esclusive live calcio mercato, tutto personalizzabile con colori rosso-neri, ovviamente mi riferisco a notizie solo di Milan, e anche gli lights da vedere gratuitamente ovunque voi siate. Vi metto il link qui sotto nella descrizione, potete andare a scaricarla e tornare, è gratuita, ve la consiglio. Allora ragazzi, questa mattina un video con anche retroscena esclusivi su quello che sta accadendo, su come ha reagito Paolo Maldini, sullo stato d'animo un po' sorpresa o forse no di Sandro Tonali, ora andiamo sulle ultimissime. Ricordiamo che questa notte noi si gioca l'ultima partita nella tournée americana contro il Barcellona, di Frank Chessy, che dovrebbe partire titolare in un centrocampo a due, quindi avremo dall'altra parte Chessy. Lo ritroviamo, detto che il prossimo anno potremmo ritrovare l'avversario con la Juventus, c'è questa possibilità. Noi giocheremo come? Con Mignani in porta, Florenzi, visto che l'Abrea non è ancora disponibile. Florenzi preferito a Salemakers, come vi dicevo ieri, se resta Salemakers verrà reinventato un po' come alternativa sulla fascia destra come terzino. Ciao, Tomore e Teo Hernandez, Loftucic, Krunic e ovviamente Reinders. In amanti Pulisic sulla destra, Giroud e Leao, quella che oggi è la formazione titolare, in attesa che possa arrivare qualcos'altro dal mercato, in attesa che si inserisca ovviamente Musa, che deve entrare ancora a Milanello, che si possa scoprire Rocafor. Rocafor che oggi ha parlato, ha detto che il Milan era in contatto con me da 6-9 mesi, di fatto da quando c'era stato quel confronto in Champions League aveva stregato Pioli. Posso giocare sia a sinistra che al centro che a destra e ha confermato che la prossima settimana lavorerà in gruppo dopo aver, diciamo così, recuperato il gap dal punto di vista atletico che aveva con i compagni, perché insomma è l'ultimo arrivato negli States con gli altri che avevano già fatto lavoro diverso. Quindi sono molto curioso di vedere anche lui, ha tanta voglia, si sta inserendo molto bene, aveva già qualche amico, in particolare Leao, e vedo un gruppo motivato, vedo singoli motivati, vedo un gruppo molto motivato. Questo ovviamente è fondamentale per poter far bene, detto che non è l'unica caratteristica che deve avere questa squadra. Sul ruolo di Salemakers terzino, non lo so, se noi abbiamo un atteggiamento molto offensivo, il prossimo anno noi andremo, quest'anno che viene, ad attaccare molto, l'abbiamo capito, ce l'hanno fatto capire, ce l'hanno anche detto, forse dietro, avendo anche Teo, doversi avere un terzino con prevalenti attitudini difensive, fermo lì, abbottonato, Salemakers è un altro che va, quindi può essere un po' rischioso. E' chiaro che se ti resta lì, là davanti hai Pulisic e Ciuqueze, devi avere anche lui uno spazio ridotto, ma da qualche parte dovrà pur essere impiegato. Vi segnalo anche che Loftus Cic ha detto torno a giocare come mi piace, leggo tanto entusiasmo, qualcuno mi dirà, beh, trovami un'intervista in cui un giocatore appena arrivato non ha entusiasmo, vero. Però lui va nel dettaglio e di fatto tornerà a fare la mezzala, che è il suo ruolo preferito, il ruolo che gli ha permesso di fare molto bene. Tra l'altro vi riporto le confidenze di Sarri, che ne parla un gran che bene, lo avrebbe voluto anche la Lazio, poi ha capito che il giocatore era già d'accordo con il Milan, la Lazio non ha neanche approfondito, speriamo che possa fare davvero molto molto bene o grande curiosità. Poi, capitolo de' Ketelare. Su Charles al momento c'è stato un interessamento ormai di tre settimane fa della Stonevilla, che poi non si è sviluppato in una trattativa al momento. C'è stato l'interessamento dell'Atalanta, che è sempre vigile su de' Ketelare. C'è stato poi anche il PSV, che è stato forse il club più interessato a de' Ketelare, ma de' Ketelare ha detto no, io in Olanda non ci voglio andare, quindi al momento tutto abbastanza fermo, anche se Tom Demul continua ad avere rapporti e contatti pure con l'Ajax. L'ultimo club che ha sondato il terreno per de' Ketelare con il suo agente è il Marsiglia. Quindi la Ligan, club che magari potrebbe, diciamo così, essere di gradimento per de' Ketelare, con il Milan, che però, lo ricordiamo, non vorrebbe darlo in prestito, vorrebbe darlo a titolo definitivo, mantenendo magari una ricompra per un domani. Perché vuole darlo in prestito al Milan? Perché Pioli non punta su di lui. E perché, perché non vuole darlo in prestito, scusate, perché Pioli non punta su di lui, e perché se tu incassi puoi fare un bel puntero là davanti. Io ho la sensazione che molto delle nostre dinamiche di mercato, di questa chiusura di mercato, dipenderà anche da de' Ketelare. Se tu lo piazzi hai un tesoretto ulteriore, se non lo piazzi e ti rimane lì, hai un tesoretto più ridotto. Anche se questa società sta facendo vedere di investire tanto comunque, però ecco, non è che possiamo adesso sballare i conti. Bisogna rimanere sempre, ovviamente, per quello che è la filosofia, il manifesto programmatico di Redbird, con il sentiero tracciato senza andare su strade pericolose. Quindi vediamo. De' Ketelare sinceramente per me col Milan ci azzecca poco. Non l'ho visto neanche cambiato in queste prime amichevoli, anche se ha giocato pochissimo. E un ruolo vero e proprio non c'è in questo Milan, se non magari la mezzala, la Renders. Perché poi, in avanti, come esterni, siamo stracoperti, con specialisti e non giocatori adattati. Visto che Pioli non vedeva lui l'esterno, sicuramente non li farà fare l'esterno quest'anno, se resta. Mi piacerebbe dire, stai qui svolti e abbiamo un giocatore in più, però ci credo poco tra la mission di rilanciare De Ketelare e la necessità di prendere, devo dire, ancora centrocampista centrale e punta prevale, secondo me, a questa situazione come prioritaria. Ecco, perché noi dobbiamo fare ancora sicuramente il centrocampista centrale alternativo a Kronic, magari giocherà l'Imusa con le due mezze ali, per carità, però quello, secondo me, va fatto e Milan lo vuole fare. E poi il numero 9, che comunque arriverà, giocatore che serve. Qualcuno nei commenti oggi ha scritto sì, abbiamo speso 120 milioni e 9, abbiamo la punta. Diciamo che Giroud c'è, lunga vita Giroud, è vero che ha 37 anni e li farà a settembre. D'altra parte c'è Okafor, che comunque quel ruolo può farlo con caratteristiche diverse, una punta di movimento. Ricordo che il Milan, massime espressioni di piolismo, giocava con la punta di movimento che non dava riferimenti, che era il miglior Rebic. Okafor quel lavoro lo può fare bene, ovviamente deve essere istruito, disciplinato, però non siamo messi male. Lo scorso anno non c'era nessuno, c'era Giroud e basta. Ibra non c'è mai stato, a parte quella gara gaudinese. Origi come se non ci fosse mai stato e Rebic idem. Quindi abbiamo uno K4 in più e dobbiamo mettere dentro appunto questo numero 9. Origi è ancora lì sul gruppone, anche dall'uscita di Origi secondo me dipende molto, perché lo dicevamo l'altro giorno, lui ha un ammortamento molto minimo, 165 mila euro, però ti costa 5,3 di ingaggio, che sono tanti. Sono davvero molto, molto alti questi valori rispetto a quello che lui non ha dato in campo. Lo scorso anno due reti inutili entrambe. E' tanto nervoso che ci siamo mangiati vedendo un giocatore che sembra essere arrivato in ciabatte. Nel video di questa mattina poi vi dicevo giallo punta, perché la gente di Alecchio Veliz, che ricordiamo di Messiere fa l'attaccante, 19 anni, 20 a settembre, argentino 1-86, 11-22 partite nel campionato argentino l'ultimo anno, l'anno prima erano state 6, scadenza con il rosario centrale 2025, la gente ha fatto sapere che si aspetta un'offerta dal Milan nelle prossime ore, a me invece dal Milan avevano frenato su questa possibilità, attenzione perché non vorrei si stia preparando già il terreno per Milan beffato, che è uno degli slogan dell'estate, sotto l'ombrellone, no? Gli altri non sono mai beffati, è beffato sempre solo il Milan, se ci fate caso, avete sentito l'Inter beffata per Koulibaly, per Azpilicueta, per Lukaku, Balogana, addirittura hanno scritto ieri, o Balogana, anzi no, Jonathan David, poi vanno su Scamacca, che a me non dispiace affatto, per caratteristiche che non mi assumono, come può essere funzionale per loro, come sarebbe stato funzionale per noi, però non ho letto l'Inter beffata da nessuna parte, per la solita narrazione e propaganda, della quale abbiamo già parlato, e sulla quale si esprimerà anche Leonardo Martinelli, nelle prossime ore, con un video di una location molto molto bella, perché anche l'occhio vuole la sua parte, ebbene, attenzione, perché il Nottingham Forest, ha presentato un'offerta a Rosario Central, da 10 milioni di euro, ricordiamo che lui ha una clausola da 14, ma è chiaro che non la si vuole pagare, e si vuole abbassare la cifra, chiunque lo vuole andare a prendere, il Toro trattava per 6-7 milioni di euro, Nottingham Forest che quindi pare, intenzionato, pare che sia arrivato a 10 milioni di euro, e quindi non vorrei che tutto questo, non tutto, perché l'apprezzamento c'è, e c'era, non vorrei che sia stato un po' un blef, orchestrato dalla gente, per far venire a galla, davvero l'offerta del Nottingham, piuttosto che di altri club, l'accostamento col Milan paga sempre, e mette fretta a chiunque, e dà ulteriore appilla a un giocatore, per questo credo che rispetto a questa mattina, forse tra il Milan che ci raffreddava, almeno per immediato, e la gente che diceva, sta per arrivare a un'offerta del Milan, l'offerta del Nottingham, credo che a livello strategico, ci possa far capire che in realtà, non era così caldissimo il club rossone, però per me è un giocatore valido, lo vedo, ha dei movimenti interessanti, non un numero in senso di gol, che sono comunque molto interessanti a 19 anni, ha dei movimenti interessanti, ha senso del gol, ha il colpo di testa, è un bel attaccante d'area di rigore, che potrebbe essere il dopo Giroud, però vediamo, vediamo, io spero sempre che a regime non avremo rimpianti, a mercato concluso tra un mese, cioè che sarà arrivato anche un numero 9 forte, perché no più forte di Alessio Veliz, quindi vediamo, vediamo eventualmente chi può essere, dipende molto dalle cessioni ragazzi, mettiamocelo in testa, bisogna cedere, perché abbiamo troppi rami secchi ancora, ci abbiamo tagliato poco, poco poco poco, è lì un albero bello, ma con dei rami secchi che rischiano un po' di inquinarti, e di infettarti quello che ci sta attorno, se tu tuoi quei rami secchi, e qualcuno ti paga addirittura per quei rami secchi, poi puoi mettere dei nuovi frutti, mettiamola così, dei nuovi fiori, sull'albero rossonero, che già oggi comunque è forte, perché noi dobbiamo ancora vedere in campo Caffor, dobbiamo vedere ancora in campo Ciuquezze, abbiamo appena visto in campo Reinders, insomma, c'è molto a livello di curiosità su questa squadra, però ripetiamo, speriamo di in questo momento cedere giocatori, è un mese che sarà rapido, dura sempre un mese, ma sarà rapido da punto di vista mercato, perché mi aspetto una cosa dietro l'altra, soprattutto con le uscite, bisogna portare le uscite, e poi in entrata la seconda metà di agosto, secondo me sarà pam pam pam, e quindi vediamo un po' le evoluzioni, per comprare meglio bisogna vendere meglio, ragazzi, sarò noioso su questo aspetto, ma ci tengo a ribadirlo. Ditemi cosa ne pensate ragazzi, su Caffor sono molto curioso di vedere così come Ciuquezze, davvero molto, non sarà questa la notte, avremo dall'altra parte che sì, che effetto vi fa? Vedere dall'altra parte che sì, me lo direte poi dopo la partita, personalmente, pur avendo detto quella frase, torno e poi sistemo tutto, io me lo riprenderei, ecco, io me lo riprenderei più che volentieri, però abbiamo preso Musa, non tornerà che sì, Musa che ricordiamo è un progetto, anche Musa dovevo vedere, che è un progetto di che sì, scatenatevi con i commenti, ditemi la vostra, e a questo punto ve la faccio la domanda, chi vorreste come numero 9 fattibile, prendibile, diciamo così, con poche cessioni, con tante cessioni, con poche cessioni, a me questo Veloz non dispiacerebbe, con tante cessioni, direi, Wai mi sembra in orbita Chelsea, John David costa davvero tanto, direi Baloghan, quindi, Veloz, poche cessioni, per quanto riguarda Baloghan, tante cessioni, e voi, scatenatevi qui sotto, mi raccomando, commentate, arrivando al video di questa mattina, con tanti retroscene in esclusiva, iscrivetevi qui, chi non si iscrive, tiffa Cialanoglu, e qui vi voglio, vediamo quanti milanisti ci sono, e quanti non milanisti, un abbraccio.